La tavola La tavola è fatta con delle stringhe avanti perché si possono mettere gli oggetti come qualcuno farà dopo o per darvi il riferimento che quello è il davanti Aprite da qui la sicurezza e la oscillate, ok? Sì, cambio questa mano va giù e l'altra Questi sono dei campi che vi serviranno, fatelo, fatelo, vi servirà Sì 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 Grazie per aver partecipato a questa prima edizione del SAP al tramonto Auguri a tutti, buone salve a tutti quanti Evviva Grazie Grazie Grazie